Una mostra fotografica per evidenziare lo stato attuale del Parco di Miramare. E' attraverso le immagini che l'Associazione Italia Nostra Trieste e l'Associazione Orticola tra fiori e piante del Friuli Venezia Giulia vogliono denunciare la situazione di degrado in cui versano la vegetazione, gli arredi, le strutture come il parterre della caffetteria del Parco di Miramare. Problemi tutt'ora irrisolti, nonostante numerosissime segnalazioni ed impegni a vario titolo assunti da chi dovrebbe manutenere il parco e invece non lo fa perlomeno in modo adeguato. Ecco quindi l'idea di una mostra per esporre non come accade di solito cose belle ma esempi di conclamata incuria con l'auspicio di richiamare l'attenzione su una situazione che peggiora ogni giorno di più. Miramare è il principale biglietto da visita di Trieste e quindi la salvaguardia del parco, uno dei più frequentati d'Italia e un investimento per consentire ai turisti di portare con sé il ricordo di una città orgogliosa del proprio passato e coerente con la sua immagine mitteleuropea.